Pronti? Via! Non è male, dai, venire avanti! E' una che sta passeggiando lì verso Ia Veneto, come va? E' oh, noi andiamo! Grandioso, vero? Hai mai visto una cosa del genere? E' la prima volta, durante il clima mondiale. Solo lei poteva riuscire a tanto, tra l'assenso della pista, per ricevere giustamente l'applauso conseguenziale. Via! Nonostante tutto, eh? Com'è un'altra frega? Non la conosco. Che vedi un po' qui? Non so. E' la guarda, è la guarda. Strega!